Oh buongiorno a tutti quanti voi da Vittorio Gassinesi, benvenuti a questo almanacco di oggi lunedì 16 ottobre, nuova settimana, è il 289esimo giorno dell'anno, la chiesa ricorda diversi onomastici e quindi auguri a Gerardo, Edvige, Margherita, Maria, il sole sorto alle 7.23 e tramonterà alle 18.24, la luna è calante ed è la giornata mondiale dell'alimentazione. Il proverbio del giorno è tutti i salmi finiscono in gloria, mentre oggi dalla pagina Facebook molti amici festeggiano il compleanno, quindi vado a fare tanti auguri a Luna Anselmo, Domenico Ferrante, Patrizia Barbarossa, Bartolo Maiullari, Sonia Battaglia, Davide Papparella, Michele Caporusso, Giuseppe Leone, Nicoletta Garofalo, Italia Cascone, Francesco Brescia, Angelica Gimmi, Giuseppe Mazzillo, Tiziana Mucci e Meri Colangelo. Ovviamente se volete partecipare a questi auguri, e non sono nella pagina mia di Facebook tra gli amici, o inviate un messaggio Whatsapp al 347 62 15 614 oppure un'email a cassinesichiocciolavice.it. Questi sono i contatti, ma se poi eventualmente volete seguirci nella diretta video show che ogni domenica collegatevi dalle 10 alle 12 sul mio profilo Facebook o successivamente sul canale YouTube di Vittorio Cassinesi. E se volete potete anche iscrivervi al canale YouTube, è gratuito. Questa diretta video show, con me ci sarà la banda di matti, non mancherà la musica, i vostri saluti, i commenti live, quelli che ovviamente voi digiterete nel momento in cui siamo in diretta, le richieste, il canta che ti passa, che è una sorta di karaoke al momento, e poi tutti i contatti telefonici, qualche ospite, qualche notizia, è giusto per rimanere informati tutto in tempo reale. Diretta video show con Vittorio Cassinesi e non dimenticatevi di iscrivervi alla pagina Facebook oppure eventualmente alla pagina YouTube di Vittorio Cassinesi. Con questo vi auguro una buona giornata, ancora tanti auguri a chi festeggia il proprio onomastico o a qualsiasi ricorrenza come compleanno ed altro, e vi rimando alla prossima occasione. Ciao!